Ciao a tutti ragazzi, sono Lucchetto, benvenuti nel canale, anche oggi appuntamento con Monster Hunter Generation. Siamo pronti, siamo carichi, solo la solita armatura malfesso, più spadone del Sergios, affronteremo il Tigrex, una tigre enorme. Regalo di compleanno. La mia sorella è andata su tutte le fure perché ho dimenticato il suo compleanno. Per farmi perdonare ho bisogno che cacci per me un Tigrex da regalarle a Ceteressi e se un grande micione regaliamo alla sorellina di questo tizio qua. L'unico problema è che questa qua è veramente tosta. Allora noi sappiamo già dove sta. Ah, sta già qua. E qui ragazzi, si è bella la pittura. Oggi sto sbagliando, sto sbagliando. Attenzione. Anche lui, lui c'ha un urlo letale, cioè anche l'urlo fa male quando grida. E ragazzi, cavalca. Ah, dobbiamo sfruttare l'urlo ragazzi, schivando, perché ricordo che andranno sempre le ombre qui. Ecco ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Se rompiamo le zampe può darsi che si muove di meno, quindi ci concentriamo su una zampa. Anche perché lui sta già sulla testa. Ognuno, una parte del corpo, non fa male a nessuno. Ma non ho già tre colpi caricati. E che vogliamo di più? Ecco vai, grida sempre che ti colpisco. Vai Tigrex, grida per me. Questo attacco che rotte è fortissimo, eh. Un 360 che prende tutto. Può fare attenzione a quell'attacco. Che può shottare tutti i cacciatori nell'aria. Ok, lui sempre la trappola. Ok. Già caduto? di qua. Aspettiamo qua. Anche perché lui cammina sempre. Tigrex. Grande, c'è cascato. Allora noi eravamo a questo braccio, eh. Non sprechiamo questa opportunità che mi sa che si è rotto. Sta scappando? Dove sta? Ah, è andato su. Lo foderiamo perché è un po' lenta. Adesso sta in rabbia, ragazzi. Ha delle vennature rosse sul corpo. L'ho perso. Eccolo qua. Lancerà dei sassoni. curiamo un altro po'. Niente, qua devo schivare, però io mi curo per ricurarmi un'altra volta. Grande ci cura anche l'altro cacciatore. Ehi, dove vai? Sta scappando? Stavolta mi sa che scappa. Mannaggia questi giaghi. Anzi, questi sono giaghi, sono le femmine. E dalle... l'ho ammazza, dai. Adesso farà il 360. Non fa il 360. Attacchiamo, ragazzi, attacchiamoci, curiamo, attacchiamo, a culo. No, ragazzi, mi devo curare. Grande, ragazzi, l'hanno spaccato. Grande, anche storrito, è caduto. Vediamo in testa. Niente, facciamo solo a due, niente, neanche a due, ragazzi, si, se ne va lui. Ok, ha tutte e due le zampe, quindi adesso si. Sarà un po' più lento nei movimenti. 360. Annaggia. Grande schivata. Contrattacchiamo. Boom. E se facciamo noi la trappola? no. È un casino. Ah, se si cavalcava con quel saltino. Manca la coda? Vai la coda, ragazzi. E la testa che abbiamo fatto adesso. Da che si è incertato? Ah, lo spadone lampeggia perché con il del sereglio si recupera l'acutezza. Niente, è schivo sempre prima, madonna mia il suo difetto, non me lo tolero mai. Ci curiamo un po'. No, è perso i sensi, ma no, peccato. Non fa niente, agrima, o agrima, tanto lui scappa. Dove sarà? Da questa parte. E abbiamo l'arte piena, ragazzi. Dai che è nostro questo mostro. Anche lo Tigrex. Dove è? Qua dietro. Che stai facendo? Che come stavo mangiando, ragazzi? No, è che cosa? Che cosa? sarà un po'. Dai, dai, ci pariamo stavolta. No, certe volte è meglio parare con lo spadone. Pistecchina. Grande. Vai, 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 che lo prendo. Sì, grande. Perché se veniamo colpiti controattacca. Attenzione che adesso prendiamo più danni quando è così. Noi ne approfittiamo per fare altre mega pozioni. Attenzione, ci avviciniamo. Grande così. One, two, three. Eh, però devo coprire la testa. Ok. Ok, mi sa che abbiamo rotto la testa. No, la coda l'ho tolto. se la coda, ragazzi, quella l'ha la coda. Eh, tutto disintegrato. Vediamo se lampeggia l'iconcina del mosso sulla mappa che può essere catturato. No, non ancora. Non vedo tanto bene. sta scappando dove scapperà. Già presa. È di qua. È di qua. È di qua. Vediamo se mi sono perso un'altra volta. No, è giusto, è giusto. Un segnale. Sta andando a mangiare, ragazzi. Cosa mangia lui? Ne sta sbavando. Sì, i funghi. si è un po' intontito il mostro. Grande così. Vai, grande. Siamo messi bene in vita. Niente, troppo lontano. Caduto. Carichiamo a tre. Ragazzi, si può catturare. Vediamo se viene vicino lo catturo, ragazzi. E va, ragazzi. Si cattura il lampeggiato. È utile la matura del malfesso se si vuole catturare i mostri. La consiglio. E anche questo mostro, ragazzi, è fatto. Grande Tigrex. Non prendiamo l'oggetto. Prendiamo gli sbrillucichini. Questi episodi, ragazzi, sto catturando tantissimi mostri, come avete visto, eh. Niente, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. E alla prossima. Ciao. Ciao.